ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di nuovo di un computer avevamo visto qualche tempo fa un portatile forse avevo fatto anche un fisso non so se vi ho mai parlato del mio computer comunque i computer sono anche una mia piccola passione che non riesco più a seguire tanto ma in passato mi piaceva molto smanettare con i computer inoltre adesso col negozio faccio anche vendita assistenza di computer ho trovato molto molto interessante il prodotto che vi faccio vedere oggi perché parliamo di un computer diciamo fisso ma che in realtà non è tanto fisso perché anche abbastanza portatile parliamo di una marca che si chiama g com tanti di voi non la conosceranno ma produce prodotti diciamo particolari direi quasi di nicchia perché sono dei mini computer ma mini vuol dire delle robe così molto molto piccoli ma anche molto molto potenti oggi vi faccio vedere un modello che si chiama mini it 11 parliamo ragazzi di un computer grosso così che monta all'interno una cpu i7 11 390 h una cpu di undicesima generazione quindi non proprio un processore di 10 anni fa e neanche una macchina diciamo stupida anche perché viene associata a 32 giga di ram con ddr4 in formato sodim quelle dei portatili fornita già con windows 11 professional installato su una ssd m2 pci express da un terabyte quasi tutto alla massima velocità disponibile con un sacco di connessioni perché comunque una macchina che al wifi al bluetooth a delle usb 3.2 addirittura delle usb 4 porta type c uscita hdmi uscita mini display port insomma un sacco di connettività prestazioni elevate in un case molto molto piccolo ma vedremo anche ben fatto tra l'altro disponibile in varie configurazioni ora passerei allo spacchettamento vi faccio vedere la macchina l'analizziamo la smontiamo per capire bene con che qualità costruttiva con che concezione è stata pensata faremo poi dei test l'accendiamo vi faccio vedere se è fluida come funziona e se funziona e poi ne riparliamo a fine video perfetto riceverete una scatola di cartone anonima tra l'altro imballata dentro un'altra scatola caratteristiche che avevamo già accennato del pc abbiamo lit 11 con un tera wifi 6 bluetooth 5.2 ok quindi scatola nella scatola e qui abbiamo la vera scatola guardate comunque che piccola a pensare che comunque qua dentro c'è un personal computer fisso anche abbastanza potente lascia un attimino così marchio modello qui abbiamo già un'anteprima di quelle che sono le porte di connessione esiste con l'intel core i7 o l'intel core i5 con una scheda grafica intel i6 nello specifico noi abbiamo appunto il gm 11 i7 t che monta un i7 11 390 h monta delle ddr4 sodim da 32 giga una ssd m2 da un terabyte ok made in china ma sembra tanta roba apriamolo ok le due metà della scatola che si aprono a scorrimento porca miseria se già era piccola la scatola il computer è ancora più piccolo ottima cura diciamo dell'imballo scritta che vi traduco qua sotto il nostro piccolo computer che guardiamo più avanti imballo protettivo molto curato rimuoviamo questa parte troviamo una busta con il ringraziamento dell'azienda e i contatti in caso di assistenza di bisogno di supporto qui abbiamo un doppio fondo tiriamo su semplicemente troviamo un cavo hdmi da circa un metro l'alimentatore che è un alimentatore con uscita a 19 volte quindi tipo i portatili da ben 65 watt 3.42 ampere ingresso di alimentazione classico come i notebook non quindi non l'ingresso iec tradizionale dei computer esce con questa connessione a 90 gradi che non è male perché aiuta ad essere più pratico risparmiare spazio un alimentatore comunque anche ben curato con anche un rivestimento qua insomma nulla lasciato al caso cavo di alimentazione con spina asciuco troviamo ancora un manuale rapido con l'indicazione delle porte le istruzioni per montare eventualmente un ssd o la base per attaccare il computer direttamente sul posteriore dei monitor con attacco vesa allora computer che arriva protetto da questa plastica protetto ancora a sua volta da un'altra plastica per proteggere questa parte grigia opaca con il logo dell'azienda molto ben rifinita sulla parte diciamo sinistra abbiamo delle griglie per la reazione l'ingresso per una sd quindi non abbiamo l'ingresso direttamente per una micro sd ma dobbiamo usare un adattatore sul lato destro abbiamo l'altra griglia per la reazione e l'attacco per la sicurezza per il lucchetto frontalmente cosa abbiamo abbiamo una type c da 20 watt e una usb 3.2 jack che può fare all'occorrenza da uscita o ingresso microfono e pulsante di alimentazione illuminato sul posteriore ingresso alimentatore porta di rete quindi rj45 altre due usb un'altra type c da 20 watt e l'uscita hdmi sulla parte inferiore abbiamo poi l'alloggiamento per questa staffa staffa che serve per attaccare il computerino direttamente dietro un monitor e tramite questi due fori isolati montare due viti in questa posizione per appendere il computer alla staffa in questo modo è fatto molto molto bene ragazzi da un'impressione di solidità costruttiva molto molto interessante ok allentando queste quattro viti abbiamo accesso al vano dove vediamo la m2 che comunque è un alexa e le memorie che sono comunque delle kingston quindi anche come componentistica hardware non è proprio diciamo l'ultima porcheria disponibile sul mercato qui sotto abbiamo la possibilità di installare un hard disk o comunque un ssd da due pollici e mezzo vedete che c'è già il posto per inserirlo c'è già il connettore con il fret già collegato possibilità di espansione in modo molto molto semplice già pronto basta prendere un ssd o anche un hard disk meccanico togliere i quattro gommini copriforo inserirlo qui fare entrare la connessione e fissarlo da sotto con quattro viti in dotazione per poi richiudere la macchina e vedete che abbiamo una freccia qui che indica front che ci aiuta a ricordare come va richiusa va nella sua sede richiudiamo le quattro viti e il gioco è fatto se non avete montato un hard disk bisogna rimettere i gommini copriforo ora facciamo qualche prova ok prima accensione macchina che arriva con windows 11 ancora da terminale a livello di configurazione e personalizzazione macchina che però appena accesa si rivela subito molto prestante veloce reattiva ho installato chrome per velocizzare al massimo ho testato la porta di rete la connessione che va al massimo di quello che può dare ovviamente la mia linea sono andato avanti con qualche test ho provato a caricare un sito pesante come il messaggero a scrollare senza nessun problema sempre molto reattivo nessun problema su youtube la riproduzione il caricamento del buffer anche a schermo intero non ha dato problemi non ha manifestato lag scatti o problematiche che possono fuoriuscire da un processore diciamo sottodimensionato quindi un utilizzo assolutamente piacevole ho provato anche a sovraccaricarlo lanciando un benchmark per ottenere dei risultati insomma indicativi dove sono usciti fuori dei buoni risultati per quanto riguarda l'hardware la spu eccetera la memoria la velocità di scrittura e tutto quanto chiaramente un po penalizzato dal punto di vista grafico perché ha una scheda video integrata non eccelsa ho provato poi a collegare ancora un hard disk esterno non ssd ma meccanico per testare le usb frontali 3.2 per vedere la velocità di trasferimento che comunque è risultata molto molto buona ovviamente senza nessun problema senza nessun tentanamento anche facendo più operazioni contemporaneamente qui sotto a destra windows 11 ci dà la possibilità di avere già i comandi rapidi per quanto riguarda wifi bluetooth modalità non disturbare eccetera eccetera abbiamo qui nella gestione computer la memoria lo spazio disponibile ancora sulla m2 interna tutto assolutamente in ordine tutto funziona benissimo chiaramente tramite l'utilizzo di un adattatore da mini display port quindi senza essere vincolati esclusivamente all hdmi tramite un adattatore come questo che trasforma da mini display port a vga ma ci sono anche dv ai potete collegare un classico monitor magari che non ha quei determinati ingressi e sfruttare comunque il vostro g com mini pc un'altra situazione molto molto interessante è utilizzare un sistema del genere quindi con un g com mini it 11 una tastiera un mouse quello che vi serve un monitor e alimentarli direttamente con una power station perché vediamo che consumano in questo momento 36 watt entrambi se stacco il monitor abbiamo alimentato solo il g com mini it 11 che come vedete consuma 15 20 un valore che oscilla ma abbiamo comunque un consumo bassissimo quindi utilizzo in totale mobilità anche con una piccola power station l'abbiamo diciamo analizzata per bene l'ho provata non è che ho potuto fare chissà quali prove però avete visto e vi garantisco ma ve lo dico perché la uso tutti i giorni molto veloce nonostante i limiti che può avere una piattaforma come windows e ha un'usabilità veramente ottima chiaramente non è un computer concepito per ad esempio i gamers fare videogiochi ma può lavorare bene ho provato con della grafica 3d ho fatto dei montaggi video ho usato photoshop ho usato i programmi della stampata 3d l'ho provata con varie soluzioni diciamo di lavoro e va benissimo poi le caratteristiche del processore le trovate le caratteristiche della memoria insomma sono tutte componenti non strane ma roba che si trova comunque sul mercato e potete decidere se fa al caso vostro è una macchina che costa in questa configurazione 650 euro sul sito ufficiale vi lascio tutti i link in descrizione perché tra l'altro in questo periodo il produttore ha fatto delle promozioni sta uscendo il video sotto pasqua e danno dei regali però comunque alla fine della fiera è dove trovate il miglior prezzo una macchina che trovate anche su amazon ma costa qualcosina in più per chi è indicata per chi ha bisogno di una macchina comunque potente perché potente potente da magari spostare o comunque per creare una postazione desktop dove non volete avere lo spazio occupato da un computer perché la pendete dietro monitor ed è praticamente sparita però essendo anche così piccola essendo robusta tra l'altro sul sito troverete info su test di robustezza anticaduta eccetera è una macchina che potete all'occorrenza anche portarvi dietro perché voi avete la vostra macchina con i vostri dati da portare dietro che è grossa come un diciamo un power bank importante ma in realtà è il vostro computer quindi vi dovete spostare seconda casa casa lavoro insomma può diventare interessante anche in quell'ottica non vi dico compratela però vi ho fatto capire che tipo di macchina e perché utilizzi potete usarla e secondo me è un prodotto interessante non costa poco però abbiamo visto che i componenti sono di qualità e insomma se fate due conti a assemblare un computer con queste caratteristiche i costi sono quelli se il video vi è piaciuto un bel like mi raccomando è gratis qua sotto qua 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 iscrivetevi al canale in modo da rimanere sintonizzati perché se date un'occhiata alle playlist trattiamo un sacco di argomenti noi ci vediamo al prossimo video la prossima diretta di giovedì sera o per chi capita in zona in provincia di torino potete venire a trovarmi il negozio ciao da massidattoli ciao